A Perugia la Grifonissima, 37esima edizione, grandi numeri, tanti sponsor, tra questi Adimotor e Perugia Motori. Certo, noi abbiamo fra le varie sezioni di Grifonissima, abbiamo questa area che si chiama Grifonissima a quattro zampe, che è nata qualche anno fa, per scherzo, per gioco, e invece è cresciuta tantissimo. Adesso abbiamo più di 100 cani che partecipano, che si mettono la bandana, che così li riconosce, e fanno il percorso insieme con gli amatori e si ritornano a Santa Giuliana. È un momento un po' di confusione, perché abbiamo anche 7-8 mila persone, quindi non è semplicissimo. Però è un momento in cui si testimonia il rapporto positivo fra l'uomo e l'animale. Quindi noi teniamo particolarmente a questo. Quest'anno ci aiuta Oteca, l'associazione Amico Peloso, Vita Craft, che poi accoglie i cani all'arrivo, e anche BMW, che fornisce addirittura la macchina che apre la corsa. e che utilizzeremo anche come macchina di servizio. Sara Pelini, dunque il gruppo Ascani, presente alla Grifonissima in questa doppia veste? Sì, il nostro gruppo, il gruppo Ascani, appunto, e tutte le concessioni che ne fanno parte, ama la nostra città, ormai lo sappiamo benissimo, e per questo motivo non potevamo non partecipare alla Grifonissima. La macchina capirale, la Grifonissima, appunto, data da BMW e D-Motor, è una macchina 100% elettrica. Ma non solo, sarà tutto un momento, una giornata di festa, in cui, appunto, abbiamo risposto di partecipare con i nostri vari brand. In particolare, in modo, i brand che si riferiscono all'ibrido e all'elettrico. Grifonissima e Grifonissima a quattro zampe. Qui sono con il mio cane, Lusi, che è un cane cresciuto e nato in centro, quindi gli piace l'idea di poter fare una corsa tutti insieme. All'arrivo, al Santa Giuliana, ci sarà, appunto, una grande festa per umani e per cani, dove saranno esposte le nostre macchine ibride. Per questo motivo abbiamo deciso di rendere maggio, il mese, appunto, tra la primavera e l'estate, il mese dell'ibrido. Ecco, la Grifonissima significa sport, significa aria aperta e significa ecologia. Esatto. E infatti anche noi di Perugia Motori siamo presenti con macchine totalmente giapponesi che sono molto attenti ai consumi, sono molto attenti all'ecologia e quindi abbiamo, come detto anche da Sara, delle macchine ibride, quindi l'ibrido che va a rispettare la natura in un contesto, appunto, quello della Grifonissima, che prevede un coinvolgimento della famiglia con attività sportive all'aria aperta. Quindi noi siamo presenti. Grazie a tutti.